Amici buongiorno, oggi trattiamo un argomento molto interessante per il quale mi sono arrivate tantissime richieste, quindi una pillola video dedicata alle vostre domande. Parliamo di spezie, allora le spezie sono una famiglia di ingredienti veramente ampia ed eterogenea perché all'interno di questo grande gruppo di sostanze ci possiamo trovare dei semi, delle cortecce, dei fiori, insomma una famiglia delle erbe aromatiche eccetera eccetera, una famiglia molto molto variegata e un unico video di questi brevi non può bastare per trattare tutte le spezie per cui mi riservo magari di farne altri per qualche categoria specifica. Allora, tagliamo la testa al toro, le spezie come ingrediente piacciono molto o non piacciono per niente, non ci sono le mezze misure, chi le mette in ogni mix ed è convinto che l'efficacia delle sue boili sia legato soprattutto al sapore speziato e chi invece decide di non utilizzarle mai. Dove sta la verità? Non c'è una verità. Quello che mi sento di dire è che sebbene fra le varie sostanze ci siano delle differenze sostanziali perché alcune spezie contengono dei principi attivi molto potenti che è stato dimostrato sia scientificamente che in pesca siano estremamente appetiti e stimolanti per le grosse carpe. Faccio un esempio fra tanti, l'eugenolo contenuto nel chiodo di garofano o nella noce moscata è un superbo attrattore di carpe riconosciuto e utilizzato fin dagli anni settanta e molto stimato da rodacci insomma per esempio per nominare un carpista su tutte che era solito mescolarlo nei suoi oli essenziali che non avevano mai un nome specifico ma erano dei combo in modo da camuffarne le presenze e non permettere di identificare per lo meno all'epoca in maniera chiara quale fossero gli ingredienti stimolanti. Così come ci sono altre spezie che sono significativamente importanti in termini di gusto per esempio il finocchio i semi del finocchio apportano un gusto molto particolare se macinati direttamente dentro al mix che risulta molto appetito e specialmente dalle carpe erbivole e così via la lista sarebbe lunga non ho nominato i migliori ho nominato i primi che mi sono venuti in mente diciamo però che se volessimo iniziare a mettere i puntini sulle i il ruolo delle spezie è principalmente gustativo quindi parliamo di attrazione secondaria ovvero quell'attrazione che avviene che si esplica nella bocca del pesce quando cioè il pesce arriva a contatto diretto con le nostre esche è un tipo di attrazione fondamentale soprattutto se c'è un'offerta libera di esche cioè se io pasturo attorno all'innesco perché se per assurdo la carpa assaggiasse la prima delle esche disponibili e non è quella innescata e non la trovasse di suo gradimento da questo punto di vista difficilmente continuerebbe a cercarle fino ad arrivare a mangiare quella innescata all'amo e quindi sia in una pasturazione attorno all'innesco che in una pasturazione preventiva più o meno lunga la determinante gusto dell'esca è fondamentale quindi attrazione secondaria fondamentale se io faccio in modo che il pesce possa mangiare le mie esche allora da questo punto di vista le spezie se la giocano molto bene perché in basse quantità con budget molto contenuto quindi spendendo poco sono in grado di dare gusti persistenti e piacevoli per il pesce a qualsivoglia tipo di mix se io faccio un fish mix e lo addiziono pesantemente di spezie in polvere oppure utilizzo gli oli essenziali che altro non sono che la forma concentrata l'essenza appunto dei principi attivi della spezia ecco che con dosaggi tutto sommato irrisori questa miscela che già di suo avrebbe un gusto forte diventa e praticamente si caratterizza esclusivamente per quello che sono i gusti derivanti dalle spezie appunto quindi componente gustativa primaria scordatevi di gestione stimolazione di appetito e queste cose qua che se anche avvenissero che è probabile ma non è provato scientificamente se anche avvenissimo avvenissero sarebbero interessanti esclusivamente per chi pastura a lungo termine perché di fatto sarebbe una caratteristica ininfluente per chi pastura oggi e pesca domani per esempio o per chi fa un paio di pasturazioni e poi pesca l'attrazione primaria secondaria rimangono le carte da giocarsi in queste condizioni se pasturo molto a lungo ci possono essere delle spezie e sono quasi tutte indicate da questo punto di vista che sul lunghissimo periodo molto probabilmente favoriscono i processi digestivi soprattutto delle proteine dei grassi questa cosa risaputa nell'essere umano le spezie nell'antichità erano diventate un bene di scambio preziosissimo proprio perché aiutavano a conservare il cibo in un periodo dove non c'erano né conservanti né né refrigerazione e davano un buon gusto al cibo anche se un po deteriorato se il gusto lasciava desiderare e sostanzialmente intervenivano in alcuni processi digestivi quindi questo è innegabile che poi sia così importante con la carpa è tutto da vedere e ribadisco se anche lo fosse bisognerebbe entrare nel concetto che il pesce si possa nutrire con continuità delle palline che vogliamo riferire quindi scordiamoci queste caratteristiche e pensiamo esclusivamente al gusto come si identifica quale spezia è più apprezzata di un'altra da una carpa beh valgono esclusivamente i test di pesca non c'è altro modo e negli anni negli ultimi 20 30 anni si è sperimentato di tutto e di più salvo poi ricondursi sempre a quelle scelte insomma classiche la paprika presente in abbondanza nel robin red il peperoncino il pepe la noce moscata la cannella il chiodo di garofano lo zenzero la curcuma il tutto quello che sono le herbs quindi l'aglio invece che la salvia invece che il rosmarino e via discorrendo cioè stiamo parlando praticamente di tutte quelle sostanze di origine esclusivamente vegetale che effettivamente hanno un'impronta gustativa molto forte marcata e che con le loro polveri o con gli oli essenziali si trasferiscono in maniera particolarmente duratura all'esca che io vado a realizzare inserendole o nel secco oppure nei liquidi in forma di polvere o in forma di oli essenziali da un punto di vista sempre pratico possiamo dire che alcuni gusti piacciono alla carpa ma non dobbiamo mai estremizzare i concetti umanizzandoli mi capita spesso di ricevere richieste di consulenze che io effettuo attraverso un modulo che si può scaricare dal mio sito www.debateguru.it dove mi si chiede di giudicare dei mix che hanno al loro interno il robin red paprika in polvere peperoncino in polvere aglio in polvere pepe in polvere ec 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 come dire quando non so che spezzi a scegliere ne metto un po' di questa un po' di quella e cerco di giocarmela così non funziona così e bisogna anche ragionare su cosa si inserisce in termini di principio attivo perché se io ho già 70-80 grammi di robin red per chilo di mix è praticamente inutile che vado ad aggiungerci la paprika che è molto presente nel robin red è praticamente inutile che vado ad aggiungere il peperoncino soprattutto è inutile che spingo su peperoncini estremi cioè quelli più piccanti in assoluto è deleterio che io vada a usare i principi attivi puri tipo le oleoresine di capsaicina che è il principio attivo della piccantezza nel peperoncino perché l'estremizzazione non va mai bene in nulla ok? per questo motivo e per non commettere errori grossolani io consiglio sempre agli amanti delle spezie di usare gli oli essenziali la gestione nelle parti liquide è molto più precisa il gusto che ne esce è strepitoso e sovrapponibile per alcuni versi molto meglio di quelli che potrei ottenere usando la sostanza in polvere tipo 10-15 gocce di pepe nero a fronte di 20-25 grammi di pepe in polvere cosa è meglio? sicuramente l'olio essenziale poche gocce che mi danno lo stesso gusto che otterrei con molti grammi di sostanza inserita nel mix è una gestione più pratica e posso definire dei gusti precisi senza eccessivamente incasinare la situazione mi sta bene che io possa mescolare insieme uno o due oli essenziali mi sta bene che io possa mescolare insieme un olio essenziale e un aroma ma 3-4 spezie in polvere nel mix più un paio di oli essenziali è veramente troppo il rischio è che comunque il gusto di risulta qualche cattura la dia ma il risultato è totalmente casuale perché non c'è una progettualità e non c'è un'idea ben precisa alla base di quello che sono andato a fare grazie a tutti